Salve a tutti, torno a parlare delle terme perché sono in questo momento della mia vita, sono il mio lavoro principale e mi ricollego un po' a quello che succede un po' tutti i giorni, non in questo periodo che siamo chiusi, perché spesso si creano delle polemiche, perché dice c'è troppo rumore, la gente chiacchiera troppo e c'è quello che strilla, quell'altro che fa rumore e quello che schizza e poi si fanno sempre riferimenti alle terme romane, come se fossero per l'antica Roma, dove tutti chissà immaginano chissà cosa praticamente, le immaginano come posti completamente ordinati, perfetti, dove tutti stavano a posto loro, ma era così? Per fortuna ci è arrivato qualcosa, stavo leggendo questa rivista qui, che è la rivista edita dall'archeotuscia, è un numero vecchio, dedicato alla città romana di Ferentò, che sta qui vicino, è un sito archeologico vicino a Viterbo notevolmente importante, Ferentò come dimensioni circa due terzi di Pompei, quindi insomma, ma non sta come Pompei. Allora, qui riporta praticamente la testimonianza di Seneca, è una lettera di Seneca, non so se nelle famose lettere all'ucilio non ho la più pallida idea, però è simpatica, qui praticamente Seneca ci fa capire che abitava, lui dice sopra, probabilmente di fronte a un impianto del male, che lui lo chiama genericamente bagno, e sentiamo un po' cosa ci dice Seneca, che cosa ci testimonia, no? Abito proprio sopra un bagno, immaginati un vocio, un gridare in tutti i toni che ti fa desiderare di essere sordo, sento il mugolio di coloro che si esercitano con i manubri, emettono sibili e respirano affannosamente, se qualcuno se ne sta buono a farsi fare il massaggio e sento il battito della mano sulla spalla, con un suono diverso, se è dato con la mano piatta oppure incavata, se poi sovraggiunge un giocatore di palla e comincia a contare i colpi, è finita. C'è anche l'attaccabrighe, il ladro colto sul fatto, il chiacchierone a cui piace sentire il suono della propria voce, ci sono quelli che si tuffano in piscina con ingenti spruzzi di acqua, ma almeno questi emettono la loro voce. Pensa al depilatore che fa una voce in falsetto e non sta zitto, se non quando strappa i peli a qualcuno, ma allora strella quello che gli sta sotto, senza contare le grida dei venditori di bibite, di salsicce, di dolci, degli inservienti delle bettole che vendono la loro merce, ciascuno con una particolare modulazione della voce. Ecco, questa lettera Seneca insomma ci fa capire che l'ambiente insomma era bello caotico e non è proprio quello idilliaco che alcuni si immaginano insomma. Quindi portiamo pazienza e andiamo avanti. Arrivederci alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!